E' durato circa un'ora e quaranta l'interrogatorio di garanzia di Franco Alfieri in carcere a Forni dallo scorso giovedì con l'accusa di corruzione e turbata libertà degli incanti nell'ambito dell'inchiesta della Procura della Repubblica di Salerno sulle procedure di affidamento di due appalti per la pubblica illuminazione nel comune di Capaccio Pestum, inchiesta che ha coinvolto altre cinque persone, tra cui la sorella di Alfieri, due funzionari del comune ed i rappresentanti della Dervit, ditta giudicataria dei lavori, ora ai domiciliari. Ha risposto a tutte le domande dichiarandosi estraneo i fatti, ha detto l'avvocato Domenico Antonio D'Alessandro che difende Franco Alfieri, sindaco di Capaccio Pestum e presidente della provincia di Salerno, ora sospeso dai suoi incarichi, oltre che dall'anagrafe del Partito Democratico. Alfieri ha fornito la sua versione dei fatti davanti al GIP Valeria Campanile, al PM Alessandro Vico, senza rimanere in silenzio, ma come detto rispondendo a tutte le domande, resta battagliero e coraceo, ha detto l'avvocato, che però ha ribadito come il carcere costituisca un'esperienza traumatica per tutti, ma Alfieri non si abbatte, ha ancora commentato il suo legale. Ora bisognerà attendere anche gli interrogatori degli altri indagati che si svolgeranno tra due giorni, mercoledì 9 ottombre, e quindi poi aspettare l'esito di questa serie di interrogatori, di cui il giudice deciderà se mitigare o meno la misura cautelare cui Alfieri è sottoposto.